Bentornati all'Italia in vetrina, un giro per tutta l'Italia delle tradizioni, usi, costumi, naturalmente assaggiando i piatti degli chef stellati più quotati al mondo, ma naturalmente strizzeremo l'occhio anche al festival perché ieri ci sono state delle eliminazioni eccellenti e quindi siamo pronti per la serata finale. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.